Consigliere Giuseppe Ambrogio, siamo in centro storico ma le sue spalle sono rivolte e guardano verso la perriera di Sciacca. Ieri la delibera di giunta per il nuovo carnevale, il nuovo bando, ci saranno più carri allegorici, due, tornano i due mini carri, però ovviamente tutti si chiedono dove sarà fatto il carnevale. Sembra assodato che con i carri in movimento sia ancora una volta la perriera, è quello che lei si auspicava. Guardi, io già sono contento che si sono mossi prima e la giunta ha lavorato bene, perciò già siamo partiti abbastanza in anticipo rispetto alla tempistica dell'anno scorso. Allora, il luogo, io mi auguro che sia il quartiere perriera, ma non per fare le fazioni, centro storico perriera sempre, perché poi uno magari fa terrorismo psicologico, ma perché abbiamo notato tutti che si è svolto in maniera tranquilla e non ci sono stati problemi per quanto riguarda la sicurezza. E mi auguro che la sede diventerà il quartiere perriera. Altra novità è che ci sono anche le date, quindi non ci sarà più il carnevale nella settimana proprio del carnevale, ma due fine settimana, è quello che in questo momento ha individuato la giunta termine. Guardi, io do una mia lettura su queste date, perché ancora non ho parlato col sindaco, la mia lettura è che ci sono due date e già mi fa capire che si farà la perriera, perché magari io penso che il tribunale non può stare chiuso e perciò io penso che abbiano optato per il sabato e la domenica a fare due weekend. E diciamo che potrebbe andare anche bene, è una bella realtà questa. Qualche suggerimento? Lei lo scorso anno, in quell'edizione di maggio, era contentissimo di ospitare il carnevale nel quartiere, però ovviamente qualche problema c'è stato, sì era molto sereno, però qualcuno dice che dal punto di vista artistico la perriera non si presta. Qualche suggerimento per migliorare la festa ce l'ha per il suo sindaco? Guardi, io le dico una cosa, purtroppo ci sono anche qua, come in tutti i paesi, penso le fazioni. C'è che magari prega che il carnevale non riesca, c'è che magari il carnevale riesca, purtroppo si vive solo di parole e di fatti nulla. Io mi auguro di migliorare l'area food, giusto? L'area food secondo me bisogna trovare un posto dove organizzare in maniera, magari non c'è più quella confusione tra sfilata e area food, magari fare una zona dove c'è l'area food, magari in modo che si possa svolgere in maniera più tranquilla la festa, la manifestazione. Effettivamente la perriera è molto grande, quindi ci sono tante strade adiacenti dove poter localizzare quest'area che dice lei. Però c'è chi dice, ma in caso di condizioni meteo avverse, quella è una zona particolarmente ventosa, cosa si fa? Io faccio l'avvocato del diavolo. Ma guardi, lei mi ha fatto una bellissima domanda, perché sicuramente la prima cosa che faranno sarà sempre di pregare che c'è maltempo temporale, trompe d'aria, perché questa cosa è normale che ci sia. Però io posso tranquillizzare, c'è il corso miraglia, perciò la festa benissimo, se non si riesce a farla in via lente, perché magari viene alla bufera, si può fare benissimo il corso miraglia, così facciamo tacere a tutti. Però per lei la perriera non si tocca? Ma guardi, io sono un consigliere comunale, non sono preposto a dare l'autorizzazione, però secondo me ormai è cambiato il mondo, cioè difficilmente si potrà autorizzare in qualche altro sito rispetto alla perriera. Quindi meglio partire in anticipo e pensare già di programmarlo lì? Esattamente.